allora sei libri che ci sono arrivati dal massimo la conquista della felicità longanese matrimonio e morale di bertrand adesso tutti e due di bertrand adesso ballo questo di albero di francesco alberoni di questa casa di tricia sapete quelle una botta e via che si usava un po di tempo fa quelle magari per posta sapete quelle minchiate lì 92 grano a garza si edizione club su di cinza garza poi biblioteca di urania il futuro della terra quattro romanzo di paul anderson ad affonzi quadro bellato bollati boringhieri che forse si dice il quadro il capo a lavoro della poesia italiana dal 200 ai nostri giorni a cuore di guido davido bonino e ci sembra che paradazzo sia ciao 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 ciao